ciao sono cecilia rie mattissima mattissima rie des e vorrei parlare di come preparare l'uolo della opera per esempio butterfly madama butterfly che mio preferito questo mio 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 cavallo di battaglia naturalmente perché donna giapponese ma non è detto allora cantare un ruolo di opera io penso non non solo bravura di cantare bene questa base no questa assolutamente la partenza di affrontiamo sul parco scenico no ma butterfly idea di butterfly cos'è questo studiando cantando no cantando ormai no alla fine già studiando deve avere idea chiara di ogni cantante deve avere questo dunque cio cio san cio cio san butterfly no quindici anni quindici anni vabbè quella epoca è adesso sicuramente un po diverso ma quindici anni ancora tante cose che non sa no deve imparare no come funziona cio 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 san cio san e butterfly una famiglia per bene una figlia di samurai e questo voi sapete che è inizio della 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 storia di butterfly e che comincia no papà è stato ucciso eccetera eccetera e giappone e questa mentalità è molto forte onore noi abbiamo questa mentalità di onore se stessi ma la famiglia e poi dopo paese questa è una cultura e allora questa questa figlia di samurai poverina un padre capo famiglia un uomo maschio è persa persa una famiglia è molto drammatico tragico la bella storia e ciò ciò è stato cresciuto dalla mamma e la nonna e quindi la nonna è che molto una donna forte spirituale dignitosa quindi ha insegnato sacco di cose a lei questa è una bella storia comunque e io ho questa idea di cio cio sam e quella epoca lì è la bella storia pinkerton è americano no non era americano un russo un russo però giacomo fuccini e la mentalità quella epoca fu avanti adesso epoca va verso america quindi lui ha studiato anche questa sottilezza discorso politico quindi invece di russo è diventato americano e si sono conosciuti una festa di inaugurazione ambasciata giapponese che invitava un sacco di persone stranieri e cio cio san faceva e questo è ospite di offrire compagnare questi ospiti stranieri che sono venuti a visitare Giappone il nostro paese no così sono sono conosciuti questa è una storia e quindi una figlia di samurai per bene e la nonna che ha insegnato ogni cosa come si comporta come si parla come si veste e la kimono no e come acconciatura e tutto ogni ogni cosa con la dignità con onore di famiglia e questa è un'idea per cantare butterfly non è per come cantare bohème di mimì a musetta o tosca e a terrore astrettamente non è così e bisogna studiare molto cultura giapponese anche come si e come si cammina questo è un discorso molto profondo e anche figura di cantante e soprano e io ho visto un altro giorno e era così così butterfly non è possibile io mia collega molto tempo fa doveva cantare non mi ricordo quale luogo era era andata copenhagen tipo non era in italia e lei è andata per cantare invece il direttore artistico ha detto mi dispiace signorina io noi non abbiamo vestito per lei e cioè adesso sta cambiando molto al teatro non dico come la modella così magra però pensate ricordate cantanti di una volta non è come adesso è così no figura non è astrettamente non è non è così guardate bene informate bene anche la mia cara maestra Magda Rivero e Renata Tevardi tuttora anche De Dia Renata Scotto e Freni c'era questa figura e ho visto recentemente questa persona che canta cantano così sia tenore sia soprano soprattutto tenore sopra non capisco non sono tutti così però per cantare butterfly non ci vuole così no Magda Rivero diceva non si canta con la ciccia diceva così sempre diceva così e infatti non è che avere questo fisico che si canta questa voce avere questa voce bocione e voi mettete qua fianco e mettete grande fiocco d'oro e nasconde perché non esiste questa mentalità perché non esiste questa mentalità per cantare bocione e bisogna avere figura no svariato non c'entra niente con il corde vocale figura sì un po' così anche maestro Mario del Monaco ma bell'uomo fisico no? cioè non c'è così bisogno piazzata dove si aggrappa è tecnica qua tecnica con la tecnica a dominare qua ben piazzata poi dipende dal registro di voce lui è tenore è drammatico io sono soprano lirico non c'è buon senso ragazzi deve avere allora appunto ha questo ruolo di butterfly è donna giapponese è più piccolina ma non piccolina perché soprano drammatico e tante io ho conosciuto è più 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 piccole di me che hanno la voce diversa voce è rilico spinto rilico drammatico e questa è dio universo quello che è la natura e ci ha regalato non si può cambiare quindi uno che canta a butterfly e ci bisogna anche entrare in questo mondo creare unico mondo di butterfly chocho san cioè di Giappone no? e questa è la prima cosa non solo cantare bene bravura di cantare bene entrare in tutto questo ma c'è scritto questa immagine di butterfly c'è scritto questo ogni spartito ogni spartito come anche vi ho spiegato figlia di samurai figlia di samurai deve essere molto dignitosa quindi anche per morire dopo quella famosa aria di tu 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 e poi deve morire no? il regista deve studiare bene cioè nonna di butterfly è insegnato come come suicida per donne e per uomo davvero allora anche queste cose la nonna è spiegato quindi tutto documenti che sono rimasti e bisogna studiare e entrare come dignitosamente e canta e innamorata di un uomo americano cioè futuro moderno e questo contrasto antica è Giappone futuro moderno america è importante e cantante bisogna fare con la musica è questa famosa Siete andati Nagasaki e baritono e poi pronunciano Nagasaki è svariato capisco che la lingua italiana mezzo vocali diventano questa S di goizzazione si dice S diventa ZA no Nagasaki e il paese si chiama Nagasaki e fra poco è l'anniversario di bomba atomica no? Nagasaki questa collina specie un po' somiglia molto a città Trieste colline piena di colline bisogna andare sopra camminare camminare e poi dopo arriva questa un verde vedremo ah lontano e porto e lui che arriva e nave bianca no? E uno che ascolta è purico e deve piazzata così e che cosa canta cosa cosa succede e deve avere questa atmosfera non pensate solo per cantare bene no e poi prima di questo poi dice piangi perché perché una bambina che chiede verso Suzuki e deve fare ancora bambina perché pensa a Pinkerton quando lei pensa a Pinkerton e molto molto torna questa atmosfera di bimba perché una bambina che guarda Suzuki con questo sguardo piangi anche pronuncia perché fate bene bisogna fare bene pronuncia perché entrare proprio mondo di butterfly piangi questo P consonante è molto morbida e gentile piangi perché perché due volte poi lei dice una donna forte eh butterfly però molto carina perché ancora bimba 18 anni passaggio di donna e la bambina no? e deve fare questo e cantando deve essere attrice cantare opera lirica bisogna studiare molto spostamento atteggiamento sguardo di come cantare queste cose e ci fa con lo spartito con la logica c'è scritto ah la fede ti manca ah la fede ti manca ah la fede ti manca punto esfermativo poi lungo punti 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 ah la fede ti manca tu ti manca fede dice no? così così un po' seccata bambina quando seccata no? e Puccini ha messo la 10 10 10 è bellissimo 10 10 per me è una apertura speranza tu che mi conosci una vita che mi segue come la tu sei come la zia come la mamma mi ha insegnato tante cose tre anni abbiamo passato un sacco di cose abbiamo fatto un sacco di cose belle ma abbiamo sempre sopportato questa tristezza che questo Pinkerton mio marito e torna e questo ha senso no? e Buccini ha messo la diesis ti manca ti manca ti e poi dopo do diecis bianco se te è molto semplice questo senti gentile buona dolce e adesso so bemore il mondo di bemore e comincia e come creare e entrare il mondo di butterfly e Cho Cho San come viene e mentalità giapponese aspetta e ingenua innocente e donna di fede e tutto questo e cultura giapponese c'è scritto e più di c'è scritto Giacomo Puccini ha capito più di noi giapponi è una cosa straordinaria e noi dobbiamo capire dobbiamo scoprire spartito con spartito c'è scritto questa cultura giapponese veramente suono e scala giapponese non scala occidentale questo inizio della entrata di Cho Cho San che canta è fantastico e oggi basta così alla prossima grazie dell'ascolto ciao arrivederci ciao ciao ciao